La cellulite o pelle a buccia d'arancia è un'alterazione dei tessuti sotto la pelle e colpisce sempre più persone, anche i giovanissimi. Non solo le donne nei glutei, ma anche gli uomini nell'addome. È un difetto estetico che denota uno squilibrio tra i grassi e i liquidi. Molti pensano che per eliminare la cellulite bisogna solo affidarsi a trattamenti professionali. Esatto, ma sono costosi e poi non ho mai molto tempo per me. Per questo vediamo come combattere la cellulite nel bagno di casa. Ecco un sistema naturale a costo zero utile per la cellulite e anche la salute. I semicupi. I semi che? I semicupi sono un trattamento di idroterapia. Sono i bagni dedicati alla parte inferiore del corpo, solo dalla vita in giù. Normalmente si fanno in mezze vasche fatte apposta per sedersi e rimanere immersi nell'acqua che può essere calda o fredda. E chi ce l'ha mezza vasca a casa? Noi italiani siamo fortunati! Abbiamo il bidet. Il bidet è una piccola vasca dedicata alle parti basse ed è perfetto per fare i semicupi a casa contro la cellulite. Ecco come fare. Riempi il bidet con l'acqua fredda, aggiungi delle gocce di oli essenziali drenanti come per esempio 3 gocce di olio essenziale di edera e 3 gocce di cipresso. Non di più. Aggiungi una decina di cubetti di ghiaccio, siediti in ammollo nel bidet e con un piccolo asciugamano porta continuamente l'acqua fredda sui gangli linfatici del linguine. Fai questo trattamento per 10-15 minuti. Se non riesci a entrare comodamente nel bidet hai un'alternativa. Prendi una bacinella larga ma non troppo alta, riempi la metà con l'acqua, il ghiaccio e gli oli essenziali, mettila per terra vicino a una parete e siediti dentro con la schiena appoggiata al muro e le gambe piegate. Esegui la stessa procedura per il sistema linfatico inguinale. Perché funzionano i semicupi freddi? I semicupi freddi attivano la circolazione linfatica e venosa, favoriscono il detox e il drenaggio di tutti i ristagni. Eliminano la ritenzione idrica e gli accumuli di cellule grasse che provocano la cellulite e la rendono visibile. Per quanto tempo devo farmi la spa a casa? Prova per due settimane, tutti i giorni e vedrai la differenza. I trattamenti naturali funzionano bene ma solo se sei costante. Guarda in descrizione il link ai miei libri ed ebook su cellulite e dimagrimento naturale. Queste informazioni sono il frutto della mia esperienza personale. Il mio scopo è divulgare. Per saperne di più leggi in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Iscriviti al canale, metti il tuo mi piace, condividi e grazie per aver guardato questo video. Ciao!